Il Vangelo di Luca oggi ci regala una poesia, un canto, una preghiera profonda, il Magnificat. L'umile serva accoglie in sé la potenza dell'umiltà della vita. Maria, donna sconosciuta, è il suo sposo Giuseppe, uomo sconosciuto, così ci ricorda Papa Francesco nel descrivere il contesto espressivo di questo canto di gioia profonda, di passione inestinguibile nei confronti del nostro amore per la vita, per la giustizia sociale, per l'uguaglianza, per l'equa distribuzione delle risorse, per non interpretare mai la vita come luogo espressivo della forza del potere, ma come luogo nel quale siamo chiamati a coltivare l'umiltà di una conversione che si fa potenza, potenza sovversiva, potenza capace di mettere radicalmente in discussione il nostro modo di interpretare la vita, molto spesso caratterizzata da conflitti fondati sulla prepotenza, sia che ci si rivolga alle relazioni interpersonali più intime, sia che ci si rivolga ai rapporti tra le nazioni. La guerra è espressione della potenza della forza, la pace è espressione della potenza dell'umiltà, che tesse legami, che genera ponti. E quest'uomo e questa donna, Giuseppe e Maria, persone umili, semplici, vivono in una città pressoché sconosciuta, piccola, Nazareth. Sì, perché il messaggio passa attraverso i piccoli della Terra, le piccole realtà. Noi costruiamo megalopoli che sono emblematiche del delirio di onnipotenza dell'essere umano attraverso una tecnoscienza sempre più insensibile alle ragioni dell'etica e dell'umiltà. E pertanto il canto di oggi dovrebbe essere recitato tutti i giorni da ciascuno di noi perché ci invita a una conversione quotidiana ed autentica di fronte alle tante tentazioni che noi inevitabilmente incontriamo nel nostro cammino di crescita e maturazione e ci richiama anche a essere un po' più sensibili nei confronti delle ragioni di nostra Madre Terra che abbiamo ferito profondamente, credendo di essere potenti, abbiamo esercitato la forza contro nostra Madre Terra. Dobbiamo invece tornare al nostro essere uomo, cioè umili, radicati nella Terra, nostra Madre che ci ha generato. Così si esprime Papa Francesco. Che cosa ci consiglia la nostra Maria? Bellissima espressione, la nostra Maria. Oggi nel Vangelo la prima cosa che dice è L'anima mia magnifica il Signore. Magnificare il Signore. Noi abituati a sentire queste parole, forse non facciamo più caso al loro significato. Questa è una nostra altra caratteristica. Ci abituiamo alle parole, ne partiamo totalmente di vista il senso profondo, il significato. Magnificare, letteralmente, significa fare grande, ingrandire. Maria ingrandisce il Signore, non i problemi, che pure non le mancavano in quel momento, ma il Signore di quante volte invece... Maria magnifica il Signore, non mette in evidenza solo i problemi, questo è un punto fondamentale. Si fa interprete della grandezza di Dio nella sua infinita misericordia, nella sua capacità di amare. Dio ci insegna ad amare e essere misericordiosi. Quante volte invece non ci lasciamo sovrastare... Noi ci facciamo sovrastare dalle difficoltà e assorbire dalle paure. Sì, difficoltà e paure, quelle che abbiamo vissuto anche in questi ultimi decenni. Entriamo in ansia, abbiamo gli attacchi di panico. Non siamo più capaci di rendere grande la promessa di salvezza, che è reale e concreta, radicata nelle nostre comunità locali. La Madonna no, perché la Madonna non si fa travolgere dalle paure. Mentre Dio come prima grandezza, mette Dio come prima grandezza della vita. E questa è una domanda che ci interroga profondamente. Siamo disponibili a porre noi Dio come prima grandezza della vita? Da qui scaturisce il Magnificat. Da qui nasce la gioia, che è poetica nel Magnificat. Una gioia che deriva dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi, perché Dio è grande e soprattutto Dio guarda ai piccoli. Facciamoci piccoli per cogliere la presenza di Dio, perché all'essere piccoli guarda Dio. Noi siamo la sua debolezza di amore. Anche in questa espressione vi è un'intensità poetica inenarrabile. Dio guarda e ama i piccoli. Dunque facciamoci piccoli, ma ascoltiamo il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Maria disse L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio. Una grande espressione di magnificenza e di esultanza in Dio, non nel nostro chiuso egocentrismo e autoreferenzialità. In Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, ha guardato i piccoli. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Attenzione, Beata. Non prepotente, Beata. Non colei la quale assume un potere che è caratteristico delle nostre tentazioni. Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E' santo è il suo nome, la grandezza che Maria riconosce in sé. La riconosce a partire dal fatto che è l'Onnipotente a far tutto di lei, le grandezze. Che lei ha accolto. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. E questo ci porta a porre la misericordia a fondamento della nostra esistenza. E ripeto ancora, mi piace ripetere questi passaggi di questo Vangelo che è travolgente nella dimensione emozionale, sentimentale, perché guardate che grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Una potenza che si rappresenta con la santità del nome di Dio, santo è il suo nome, di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. La sua misericordia implica il fatto che noi siamo chiamati non ad avere paura, ma ad ascoltare e obbedire. In un timore che non è rassegnazione, ma apertura alla grandezza della misericordia di Dio. Dobbiamo temere, ma non avere paura, dobbiamo avere il coraggio nel temere. Il coraggio di agire secondo quanto il messaggio di salvezza ci indica. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha mandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto i nostri padri. Per Abramo e la sua discendenza per sempre, una promessa per sempre, che oggi, come in ogni altro giorno, ci invita a praticare l'umiltà, l'ascolto, farci penetrare dall'infinita misericordia di Dio, dal suo amore che si traduce poi in misericordia e amore condiviso con il prossimo che incontriamo. Buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.